Orlando, ci siamo, quinto tuo combattimento da professionista? Sì, ci siamo, ci siamo, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. È stato chiesto un ulteriore sforzo, come oggi è Natale, sono qua dentro ad allenarmi, però dai, ce la facciamo anche questa volta. D'altra parte la boxe è uno sport che richiede molti sacrifici, eh? Troppi forse, troppi forse, però va bene così, va bene così. Hai sempre detto che per te è uno stile di vita la boxe, quindi lo fai con passione sicura? Sì, ma a Natale non l'avevo mai fatto, onestamente, il 23, il 24, ma a Natale no, però va benissimo. C'è sempre una prima volta Orlando e domani questo tuo avversario, Tattari, descrivicelo per quello che ne sai. Ma mi hanno detto che è un picchiatore, è un avversario un po' più esperto di me, è un po' scorretto, però noi cercheremo di fare un bel incontro ugualmente. Ti vediamo prepararti sempre con molta coscienza, pugni duri perché hai potenza, ma anche un'ottima tecnica. Datti un giudizio per te, dai. Sono scaramantico, di tanto non posso, però sto bene, sto bene, mi sono allenato bene un'altra volta, non ho problemi e ce la metto tutta. Allora aspettiamo domani sera per sapere che questo tuo quinto match in bocca al lupo Orlando. Trevi, trevi e grazie a tutti.